un risaltatore? del sapore o di colore? di colore? come altro si dà? se ti ricordi uno così puoi guardare subito se ti ricordi uno così puoi guardare subito caldo, spiegherò questo personale un po' come si chiama? no, quello ti amato un po' di colore un po' di colore un po' di colore senti un po' che le ricopri no, non mi sto sentendo io ho già diventato il po' di colore se lo diventa il nero e' il nero ma noi già dai che serve? a me che va bene forse è quello che stanno utilizzando si si no 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 Quindi, sai, ma non vuol dire, capito, non vuol dire... No, non vuol dire, perché tutta questa roba che ci mette dentro, ecco, ha la faccia, capito, di faraoni di tutto quello che faceva per modificare musica, ma che altri, capito, e poi niente, capito, modifichiamo. Siamo finiti questo tempo? Ma se tu dici quello che dicevo, se ti senti il discorso...